Buongiorno, come vedete sono visibilmente e giustamente molto emozionata. Io vi ringrazio tantissimo per la fiducia accordatami da tutte e tutti voi e in primis per la fiducia che mi è stata data dal segretario Nicola Zingaretti. Ringrazio tantissimo il presidente uscente Gentiloni e tutte le persone che entreranno a far parte di questa comunità e che ne fanno parte già da tempo e hanno concorso a renderla quello che è oggi. Io penso che immaginerete lo stupore quando ho ricevuto questa proposta ed è lo stesso stupore penso anche vostro di tante persone che non mi conoscono nel leggere appunto il mio nome e credo che questo stupore, il mio, il vostro, quello di tanti sia la forza, la potenza e rappresenti il coraggio di questa scelta. Una scelta che io incarno ma che travalica, oltrepassa totalmente la mia persona. È la riaffermazione che la politica non è qualcosa di avulso dalla vita delle persone, non è affatto qualcosa di cui le persone debbano diffidare, che è anzi l'incontro vero e concreto con i bisogni delle persone, che è dialogo, che è confronto, che è partecipazione ed è un incontro che noi sindaci abbiamo tutti i giorni, ogni giorno. Io vengo da una settimana, da due settimane di elezioni dei consigli di frazione. Sono stata in frazioni anche piccolissime, di cento persone e credo fermamente che questi strumenti di democrazia partecipata siano il vero senso, che in questi strumenti risiede il vero senso dell'idea di democrazia veramente partecipata. È l'incontro con le persone in carne e ossa, è il fatto di vederle, di ascoltarle, di dialogare. Questa è la democrazia, che non potrà mai, mai essere in alcun modo sostituita da piazze virtuali. Io credo che questa debba continuare ad essere la nostra strada, rendere sempre più capillare la democrazia, dialogare con chi ha bisogno di sapere, di capire, di conoscere, di compartecipare ai processi decisionali. E la voglia di incontrarsi, di far sentire le proprie voci, l'abbiamo vista in tante piazze, in tante manifestazioni organizzate dalle sardine, che dobbiamo davvero ringraziare, perché sono riusciti a far emergere con forza, dirompente, la voglia di partecipazione delle persone. E che continua ad essere molto tangibile, è stata tangibile anche in passato, nelle manifestazioni dei Fridays for Future, lo si vede in questi giorni a Bologna, da dove io vengo, da dove io provengo, per Patrick Zacchi. E' proprio dal coinvolgimento delle persone, dalla partecipazione che parte la battaglia a chi vuole fomentare l'odio, a chi prende gli individui e li divide per categorie, fa degli individui e delle categorie, a chi vuole sempre opporre un noi ad un loro, che poi si traduce in un'opposizione fra io e un altro, fra io e un nemico, fra l'io ed un nemico. Io ho avuto l'onore, grazie al Presidente David Sassoli, di ascoltare il discorso della senatrice Liliana Segra al Parlamento europeo, che ha detto una cosa totalmente vera, e cioè che fino ad ora non c'era, non c'era stato il momento politico per poter tirar fuori il razzismo e l'antisemitismo. Ma poi arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile far finta di niente. Tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti. E risale all'altro ieri la strage che ha fatto un uomo in Germania, nella nostra Europa, dicendo che bisognava annientare gli stranieri e non c'è alcuna nazione, alcun paese che sia immune da tutto ciò. E di fronte al ritorno alla barbarie, credo che non si possa assolutamente esitare. Ci si deve unire e si deve lottare con forza e con tenacia. Io vivo da sempre, da quando sono nata, in una comunità che la ferocia l'ha vissuta all'orrore, il nazifascismo l'ha vissuto sulla pelle della propria gente. E oggi Marzabotto e Montesole sono dei presidi di democrazia e di antifascismo. Luoghi di memoria che operano sul nostro presente e per il nostro futuro. Ma la memoria non risiede solo in luoghi fisici. È dentro all'azione di tutti coloro che lottano per l'universalità dei diritti e per l'eguaglianza. È dentro alle azioni di tutti coloro che prendono parte, che scelgono da che parte stare, che parteggiano. E sono a pieno titolo partigiani e partigiane del nostro tempo. E sono studentesse, sono studenti, pensionati e pensionate, sono lavoratori e lavoratrici, sono precarie e precari come me. E lo fanno ovunque. Lo fanno nei luoghi di lavoro che spesso devono difendere. Lo fanno per dare dignità alle nuove forme di lavoro che si trovano a fare, a svolgere. Lo fanno nelle associazioni di volontariato, nelle piazze, dentro i sindacati, dentro i partiti, nelle istituzioni. E lo fanno persino nello sport. Noi abbiamo avuto un esempio straordinario in questo senso, che ci arriva da delle donne. la nazionale femminile di calcio. Quando la capitana Sara Gama è arrivata dal presidente Mattarella e ha spiegato anche che cosa volesse dire essere parte di una squadra. Ha fatto vedere che cosa voleva dire essere parte di una squadra. Non essere parte di una squadra in cui ci sono nomi o persone famose, nomi altisonanti, ma proprio un gruppo che si sostiene, in cui ci sono persone, donne che si sostengono a vicenda. Ed è arrivata dal presidente Mattarella e ha spiegato il perché del numero 3, della maglia numero 3, per omaggiare il nostro articolo, l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la pare dignità e l'eguaglianza di tutti quanti, al di là di ogni distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E io credo che in tanti la pensiamo come lei. Siamo in tanti, siamo milioni. E c'è una strada differente, molto lontana dagli slogan, molto lontana dalle grida, dalle urla, dall'antipolitica. Ed è questa la nostra strada. E quando dico nostra, intendo quella di tante persone che hanno valori comuni, che possono portare avanti un'altra idea del mondo, per dirle con le parole di Berlinguer. In questa strada è arrivato il tempo di camminare insieme, in tante e tanti, capaci di accettare la sfida di svestirci di pregiudizi, di vestire invece i panni del rispetto, della storia politica e delle appartenenze di tutti quanti. Delle storie personali di ognuno, ognuno con il proprio portato, ognuno con la propria competenza. Chi con l'impegno che viene da anni, con l'impegno proprio di anni e anni, e chi invece si vuole a propinquare ora, vuole iniziare ora ad impegnarsi. Io, è già stato detto, non appartenevo a questo partito. Ma appartengo a questa strada, sulla quale si cammina in tanti e tante da troppo tempo senza mai incontrarsi, senza riuscire ad incontrarsi veramente e ad andare in un'unica direzione. E sono veramente, lo ripeto, felice ed onorata di essere parte di questo presente, di toccare con mano questa enorme generosità con la quale il segretario Zingaretti, tutti voi, il Partito Democratico, una comunità così grande, decide di tendere la mano. Perché di fronte alla disumanità, al razzismo, alla ferocia della peggior destra che la mia generazione e quella anche di tanti altri abbia mai conosciuto, è arrivato il tempo davvero di prendersi per mano ma veramente, di iniziare ad unire e non dividere, di allargare e di non restringere. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne da soli è l'avarizia, sortirne tutti insieme è la politica, diceva Don Milani. Io sono davvero tanto contenta di essere qua per poter ribadire che l'unico, l'unico modo per uscirne, l'unico modo per dare dignità alla buona politica e l'unico modo per costruire un'Italia migliore è davvero farlo insieme. Facendo le cose insieme è tutto, tutto possibile. Io vi ringrazio di cuore e auguro a tutti noi, buon lavoro. Grazie.